Ciao a tutti e benvenuti su TechGaming In molti mi chiedono Ma come faccio a creare Un tasto, un pulsante Qualcosa per le donazioni Paypal In questo video ve lo spiegherò In passato vi ho consigliato Di passare attraverso il Moneybox O Streamlabs Dimenticate questi consigli Perché oggi voglio Proporvi una soluzione Assolutamente migliore e funzionale Che potete usare poi anche Per il vostro blog Oltre che social network Andate su paypal.com Slash buttons Come è scritto qui E fate il login con i vostri dati A questo punto cliccate su Donazione Intendiamo Ok, indicate Il vostro paese La lingua Che tipo di pulsante volete, se è grande Quindi indicate poi a chi Vi sta facendo la donazione Anche le carte di credito Potete mostrarle oppure no Oppure potete scegliere Un'immagine che preferite Se magari ne avete creato Diciamo Un banner personalizzato Avete creato Una vostra Una vostra immagine Cliccate su continua Lo scopo Indicate quello che volete E poi qui dice Vuoi consentire ai donatori Di scegliere programmi specifici Potete lasciare anche no Cliccate su continua Scegliete la valuta Nel mio caso euro Potete scegliere un importo esatto Qualsiasi importo Oppure tre opzioni di importo Quindi potete dire ai vostri donatori Io accetto solo donazioni di 100 euro Oppure donazioni libere Qui dovete decidere Se volete permettere ai donatori Di fare donazioni mensili ricorrenti Quindi cliccate su continua Qui diciamo ci sono Le ultime cose che dovete sistemare Ossia Raccogli informazioni dai donatori Quindi se volete ricevere magari Informazioni da chi vi sta donando Se volete reindirizzare il donatore Su qualche sito web Magari il vostro blog Canale youtube E così via dicendo Se volete Diciamo Impostare l'identificatore conto Quindi utilizzare una vostra mail O un conto id Quindi praticamente il vostro donatore Vedrà la vostra mail O un id E aggiungere delle variabili via html Al vostro pulsante Se ovviamente avete un minimo di nozione Completate la creazione Ed avete il vostro pulsante Potete condividerlo via html Con url O codice qr Quindi potete salvare il vostro codice E condividere questo codice In modo che chi scansiona il codice Con lo smartphone Paga Cioè dona direttamente Condividere l'url magari su twitch Oppure il codice html sul sito Questo è il tutorial Molto semplice e veloce Per creare un pulsante Per le donazioni paypal Per twitch Per il blog Per il social network E così via dicendo Se questo video vi è servito Cliccate sul pollice in alto Iscrivetevi al canale Per supportare Dash Gaming E per qualsiasi domanda Non esitate a lasciare un commento